15. Ed è lì che la vita parla. La via della conoscenza, attraverso Attilio M. Attilio. A tutti coloro che hanno già avuto contatti con la via della conoscenza, ma anche a chi la incontra per la prima volta, che cosa possiamo dire di questa via che non conduce da nessuna parte e che mai si lascia afferrare? Possiamo dire che subito, nell'incontrarla, si pensa di trovarsi di fronte ad un percorso che conduce ad una conoscenza più elevata. Ed allora ci si dice «Finalmente sono giunto. Seguendo questo sentiero posso arrivare alla conoscenza ultima, quella più profonda di cui riempirmi ed attraverso cui migliorarmi per progredire. Chi in fondo non l'ha pensato, anche se in modo non del tutto chiaro, magari un po' velato? Questo perché non si era, e forse ancora non lo si è, consapevoli dello specchietto per le allodole che ci ha attirato ed ancora ci attira, stuzzicando in noi la speranza di riconfermare il nostro io, stuzzicando il desiderio di continuare a riempirci di concetti sempre più profondi ed evoluti e stuzzicando il bisogno innato in chi percorre una via interiore di giungere finalmente ad una meta finale. Ma laddove c'è una conoscenza c'è il proprio io e la via della conoscenza nega ogni individualità. Che cos'è allora la via della conoscenza per le voci dell'oltre che ce l'hanno proposta? Lo esprimiamo seguendo le loro parole. Non è un insegnamento, non è un processo di apprendimento, non è un percorso concettuale, non è una dottrina di cui riempirsi per giungere a quella conoscenza tanto desiderata. È unicamente il controprocesso dei processi della propria mente ed il nome con cui ci è stata presentata è semplicemente un trabocchetto dialettico per portarci a capire che l'unica conoscenza possibile per l'uomo è quella della non-conoscenza. L'unica verità che è possibile conoscere è l'inconoscibilità di ciò che circonda ogni essere. Attenti! Chi vuole giungere alla conoscenza lo fa attraverso il proprio io, altrimenti non si parla di conoscenza ma di riconoscimento dell'inconoscibilità. Seguendo le loro parole possiamo quindi dire che questa via non è una via ma è un controprocesso che continua a riproporre e riaffermare la non-conoscenza nei confronti dell'esistenza o della realtà o della vita o del divino comunque di tutto ciò che ci sovrasta che ci trascende che mai ci riguarda e che è in sé inconoscibile ed inafferrabile per chi utilizza lo strumento della mente con cui gli umani tentano di svelare il mistero che ci circonda. In chi lo comprende muoiono le domande, le pretese e le scommesse quelle volte a capire ed affermare la propria unicità nell'esistenza ma anche quelle volte a svelare il mistero che avvolge la realtà. perché tutto quello che ci riguarda e su cui porre la nostra attenzione è il quotidiano del giorno dopo giorno della concretezza dei gesti e degli incontri. Tante invece sono le nostre domande chi sono? Chi sono stato? Chi sarò? Perché sono qua? Chi mi ha preceduto? Dove andrò? La risposta che qui troverete è che nella realtà tutto è già perfetto così com'è. Lo scoprirete inoltrandovi nella lettura dei brani che vi presentiamo e che vi svelano che ciò che sovrasta l'uomo è in sé negazione di ogni pretesa di individualità e di conoscenza. Ma allora perché ci si affascina della via della conoscenza? Perché c'è curiosità e stanchezza? Perché è sorto un dubbio a scalfire le certezze? Perché i vecchi concetti hanno fatto il loro tempo e si cerca qualcosa di diverso? Perché le solite domande non trovano risposte soddisfacenti e le risposte di un tempo non bastano più. Procedendo nella lettura si incontreranno termini come indistinzione, impermanenza, effimero, gratuità, ciò che è, impersonalità, accadere, piccolo del piccolo, sfilata, ed altri ancora. Sono anch'essi i concetti che però vengono utilizzati per mettere in crisi e poi creare le basi per un progressivo svuotamento dei concetti di cui ci riempiamo, ma anche per favorire degli inceppamenti nei nostri processi mentali. Lasciateli entrare così come bussano e sussurrano, senza dar loro importanza, senza ingigantirli, senza hissarli come nuovi vessilli o profonde verità, altrimenti vi ritroverete a vivere i soliti inganni di una mente che vuole ritradurre tutto secondo vecchi schemi. Lasciateli entrare e scaveranno un vuoto perché il silenzio di cui parla la via della conoscenza è il vuoto mentale. Chi siamo noi che scriviamo questa presentazione, noi che abbiamo in passato ascoltato direttamente le voci dell'oltre? Semplicissimi spettatori di ciò che si è presentato davanti ai nostri occhi e che ci ha coinvolto e stravolto, ma che non ci appartiene, che ci sovrasta e che mai sarà nostra conoscenza. È semplicemente accaduto che venissero casualmente coinvolte alcune persone come osservatori, ma anche come menti, da provocare perché si palesasse la loro reazione. Ma fra chi ha interagito allora e chi sta avvicinandosi ora, non c'è alcuna differenza. Le differenze le crea la nostra mente. Vi proponiamo in ultimo un suggerimento nell'affrontare la lettura dei brani e dei libri sulla via della conoscenza che abbiamo raccolto qui, volendo dare anche ad altri la possibilità di leggerli e di riflettervi. Accostatevi senza la pretesa di trattenerli, di riempirvene, di metterli in pratica e di utilizzarli per una vostra progressione interiore. Quel che le voci dell'oltre ci hanno portato non sono degli insegnamenti, non sono nuovi contenuti per le nostre menti, non sono concettualizzazioni da afferrare ed utilizzare nel cammino interiore. Sono paradossi, sono provocazioni o sono fascinazioni, comunque sono negazioni dei nostri processi conoscitivi e concettuali. Non hanno alcuno scopo né di modificarci e né di farci evolvere. Creano semplicemente dei piccoli vuoti dentro il pieno della nostra mente. Ed è lì che la vita parla. vocedellacuiete. vagliano chiocciola gmail punto com e che la vita parla. Grazie.